Forse i leoni alati che da 68 anni sono di guardia al mare pesarese potrebbero tornare a ruggire di nuovo splendore. I manufatti in pietra realizzati da Leandro Ricci sulle panchine che attorniano la palla di pomodoro sono però solo alcune delle tante opere scultore in stato più o meno deteriorato sotto la lente di ingrandimento del comune. Una lente posta dal consigliere comunale di Prima Cepesaro Emanuele Gambini che con una interrogazione ha portato l'amministrazione ad una ricognizione e mappatura dello stato di salute di busti, lapidi e sculture storiche cittadine. Perché tra le altre meritevoli di un restauro sarebbero pure la statua di Sant'Andrea in Piazzale Doria, il busto di Terenzio Mamiani a due passi da Rocca Costanza e quello di Giulio Perticari agli Orti Giuli. È stata un'interrogazione utile anche se un po' impegnativa ovviamente per i nostri uffici perché chiedeva una ricognizione dello stato dell'arte, diciamo di tutti i vari monumenti, lapidi, busti, sculture, inteso quelle classiche monumenti, non l'arte contemporanea su cui c'è un altro progetto e abbiamo proceduto in qualche settimana ad aggiornare e quindi è stato anche utile per questo uno studio, una mappatura, una ricognizione che in realtà già c'era ma abbiamo unito anche una classificazione rispetto ai vari stati di conservazione e quindi abbiamo visto dalle più deteriorate, più bisognose di cura, quelle che invece hanno avuto restauri più recenti o più clemenza da parte degli agenti atmosferici e meteorologici e quindi ora abbiamo anche una traccia di lavoro importante per programmare con regolarità nuovi restauri e anche prevederne magari un percorso di valorizzazione, quindi una mappa e dei percorsi che si possano rendere più fruibili anche perché in questo momento c'è anche molta volontà, molta necessità all'esatto punto di vista di riscoprire anche le bellezze o gli elementi storici di curiosità, di percorsi storici che abbiamo fruibili anche all'aperto e quindi può essere anche l'occasione questa interrogazione e il lavoro conseguente che hanno fatto gli uffici del comune, della cultura e dei lavori pubblici appunto per un iter che possa diventare, diciamo, da una semplice segnalazione anche un vero e proprio percorso di valorizzazione della bellezza cittadina e della storia perché poi ovviamente lapidi, busti, protagonisti insomma dei secoli e dei decenni scorsi sono anche un importante punto di ripartenza per il racconto storico.